lo sapevate che l'ultimo uomo a camminare sulla luna è stato harrison smith ed era allergico alla polvere lunare lo sapevate che secondo una ricerca del national geographic la maggioranza dei canguri sono mancini lo sapevate che in oaio è illegale somministrare alcol ai pesci e farli ubriacare lo sapevate che la parola gorilla deriva da una parola greca che significa una tribù di donne pelose lo sapevate che giubbotti antiproiettile scale antincendio tergi cristalli e stampanti laser sono stati tutti inventati da donne se non lo sapevate ora lo sapete